Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di The Hour Unreaded come vedete siamo ritornati con il mio canale e più che altro questa è una semplice notizia in cui vi dico le live che si faranno sempre martedì e giovedì magari qualche volta, anche altri giorni lo specifico, saranno fatte su Twitch perché saranno fatte su Twitch? semplicemente perché il canale attualmente lo voglio basare solo per i video non voglio confondere con le live e video misti visto che soprattutto in questi ultimi giorni usciranno diversi video che non riguarderanno più gameplay o cose del genere semplicemente fino adesso ho fatto dei gameplay per far girare un po' il canale mentre preparavo le altre cose visto che le cose ormai sono completate e tutto semplicemente questo è un annuncio per dirvi che le live di qualsiasi tipo saranno fatte su Twitch lì c'è tutto preparato, già c'è quasi tutto pronto perché in questi giorni ho fatto 2-3 live per testare anche se le cose fossero perfette o almeno in modo preciso vabbè, del resto comunque ho sempre messo anche sulle descrizioni dei miei video il canale Twitch come le altre cose tipo Instagram, Facebook io vi consiglio di andare su Twitch seguirmi e ci vediamo oggi verso probabilmente le 17 per una live o almeno alle 16.30 tra le 16.30 e le 17 ci sarà una live per quanto riguarda qualche gioco in particolare comunque lì posso portare più cose per quanto riguarda il video ludico come lo avete capito lì voglio fare per quanto riguarda i video giochi e il resto sul mio canale di YouTube fare altre cose come avete visto ad esempio la Challenge oppure il fatto dei Ash and the Group oppure quando ho parlato delle serie gaming i miei giochi da tavola sono comunque le cose più importanti per quanto riguarda il mio canale del resto ragazzi ci vediamo su Twitch oggi e lì comunque se avete domande o se ci sono fate delle domande in particolare per quanto riguarda qualsiasi cosa comunque lì possiamo chiacchierare dal vivo e ci vediamo oggi ciao